Voi immaginate l'impatto mediatico di Moro che esce dalla prigione delle Brigade Rosse. Le Brigade Rosse non lo hanno ucciso, quindi acquisiscono un surplus. Moro va in televisione e dice questi mi hanno salvato, mi hanno rapito, hanno ucciso l'ascolto, ma mi hanno salvato. Questi hanno fatto così, 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 così. Moro diventa padrone dell'Italia, a livello di opinione pubblica sicuramente. E c'è un politico democristiano, due volte segretario dell'ADC, il quale dicono, quindi tra virgolette, abbia affermato meglio che lo uccidano, perché se questo torna, poveri noi. Eh ma secondo lei, chi è che ha deciso di ucciderlo alla fine? Perché è stata una scelta delle Brigade Rosse. Noi abbiamo capito che nel sequestro Moro non ci sono soltanto le Brigade Rosse, no? Questo è acclarato anche dalla Commissione parlamentare. La gestione logistica sia del rapimento... Non c'è un'assemblea nella quale si decide. Facciamo assemblea, i brigatisti fanno assemblea. Morucci e Faranda sono contrari, però alla fine si adeguano. Ma non c'è un'assemblea di servizi segreti italiani e stranieri per ucciderlo. C'è una dichiarazione in video di Francesco Cossiga, il quale dice in video, quindi la potete vedere. Voglio morire perché devo andare a trovare il mio miglior amico Aldo Moro che abbiamo ucciso da innocente, quando abbiamo deciso di non trattare. Il giornalista, Roberto Arditi, gli chiede in video, c'è il presidente, è Andreotti. E così gli risponde, io il giorno in cui abbiamo deciso di uccidere Moro, mi sono ammalato, la malattia della pelle, ma vi dirige. Ad Andreotti scivola tutto addosso, camperà, cent'anni. Il 16 marzo del 78, il compare di Cossiga, che si chiama Pecchioli, comunista, lo va a trovare alle 11, dopo Viafani, e dice per noi, parlava per il PC, ma in realtà parlava per sé, per noi Moro è morto in Viafani. Ma voi vi rendete conto? Quel povero Cristo rapito alle 9.10, 5 uomini uccisi, è un deputato della Repubblica, no, non ho sciagurato, Pecchioli, rapporti dello Stato, del PC, uno che conta, dice per noi, Moro è morto in Viafani. che fa sponda con quello che dice Gelli all'Hotel Excelsior, alle 11, presente la sua segretaria amante. Gelli parla con due persone, la segretaria amante sente, perché sta insieme, ma sta di spalle, quindi non vede due persone. E Gelli dice, con il rapimento di Audomoro, il più è fatto. Vediamo ora che cosa succede.